Musica Che bella partita abbiamo giocato a Genova Davvero a rivedere le immagini Come dire si accende l'amarezza per la squadra Però devo dirvi che Lo detto al secondo gol personale Finalmente una bella sconfitta Finalmente abbiamo fatto una bella sconfitta Ci siamo davvero sentiti orgogliosi Come giocava la squadra Purtroppo è andata a male Però davvero complimenti a questi ragazzi Che già dall'inizio della stagione Stavano dando tutto il possibile Che ieri forse sono andati anche oltre il tutto Che hanno dato fino a questo momento Davvero bravi 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 Lo dico a prescindere dall'eliminazione in Coppa Alberto Parigino Buonasera Ma c'è lì a Genova? No purtroppo no Tu stavi parlando proprio di emozioni Di questo E io volevo rimarcare il fatto Che purtroppo le emozioni Che abbiamo provato ieri a vedere la televisione Io personalmente non l'ho vista Ma le emozioni che si provano A vedere la televisione Le emozioni che si provano Stando lì Seguendo veramente Con la passione Col cuore Col cuore veramente La partita È tutta un'altra cosa Ci stanno veramente Vietando oramai l'impossibile In trasferta Quest'anno non ci siamo andati per niente Se non la prima trasferta di Modena No c'è stato il paradosso Devo dirti Io l'ho segnalato Di vieto di Bari-Sandoria Per i tifosi ospiti Non in possesso di testa dei tifosi Cosa poteva accadere in Bari-Sandoria? Ma oramai non è più un problema Di cosa possa accadere Perché neanche a Sassuolo Bari sarebbe potuto accadere niente Dato che a Sassuolo Non ci sono neanche i tifosi Non parlo di campi caldi Come per essere Noceera Juve-Stabia Queste cose qui Va bene Ma anche a Sassuolo Non ci sarebbe stato motivo Di vietarle Eppure l'hanno vietata Oramai L'impronta che si vuole dare È che O si ha la testa del tifoso O in trasferta non si va E speriamo Che si mantenga questa linea Perché potrebbe anche essere Come c'è proposta Dal 2012 Ma probabilmente slitterà Al prossimo campionato Anche per acquistare I biglietti Delle partite in casa Ci vorrà la testa del tifoso Quindi poi ci sarà da rivedere Tutta una serie di meccanismi Di ragionamenti Per quello che riguarda Anche il più Se dovesse passare questo C'è della testa del tifoso Anche partite interne Voi come vi comportereste Visto che siete stati sempre Ostili a questo Purtroppo Purtroppo stiamo vivendo Alla giornata Qui le leggi Un giorno le fanno Un giorno le cambiano I regolamenti soprattutto Un giorno le cambiano Un giorno sono più elastici Un giorno meno Quindi vedremo al momento Cosa succederà Io non credo Perché lo svuotamento Degli stadio È sotto gli occhi di tutti Il fatto che gli Ultras Non vadano allo stadio Come a Bari Sabdoria Il giro del campo Non c'è stato Non c'è stato il gemellaggio Vero e proprio Perché in effetti Gli Ultras non c'erano Ed è stato una festa in meno E tutti quanti Se ne sono resi conto Quando incominceranno A lamentarsi anche I giornalisti I giocatori I presidenti Un po' tutti quanti Quelli che hanno più voce Di noi Che siamo sotto la riflessione Probabilmente potrebbe Cambiare qualcosa E dovrebbe essere così Perché veramente Lo svuotamento degli stati Quest'anno raggiungerà Percentuali altissimi Secondo me Abbiamo domato un po' Lo studio Diciamo di un cimelio Degli Ultras Perché Quello che vedete Mi spara Questa sciarpa Sarà uno dei tanti cimeli Dei tanti gadget Dei tanti biglietti Dei tanti pezzi Di storia Degli Ultras Che verranno esposti Da lunedì Presso Il Fortino Sant'Antonio Perché Si rinnova L'appuntamento Lo scorso anno Vedete Telebari E fra i media partner E allora te Dire il resto Perché comunque Stamattina c'è stata la conferenza stampa Di presentazione Ma quest'anno abbiamo fatto uno sforzo Veramente notevole Di più veramente Non potevamo fare Perché L'anno scorso abbiamo già avuto un successo Quando la manifestazione Che abbiamo fatto Per esempio di beneficenza Questo carattere di beneficenza In via Sparano Ha avuto un successone Abbiamo devoluto Quasi 5 mila euro All'orfanotrofio Di Villa Mar di Arcucci Di Bari È stato veramente un piacere Giocare con i bambini Scherzare con i bambini Mettere la sciarpa al collo Della madre superiore Che veramente ci ha dato un'accoglienza Un'ospitalità fuori dal comune Si è dimostrata veramente Quasi quasi una Una tifosa come tante altre Veramente è stato molto bello E il calore che si è provato È stato veramente notevole Quindi abbiamo voluto ripetere Questa Quest'operazione Però essendo i nostri 35 anni Ed essendo un compleanno importante Pochi gruppi ultras in Italia Possono vantare questa Avete fatto le cose in grande stile Questa volta Abbiamo voluto fare le cose in grande stile Sì ci siamo riusciti Anche grazie naturalmente agli sponsor Che sono istituzionali Quelli del Bari Quindi Banca Popolare Rea Master Group Quest'anno ci siamo voluti A valere anche del Del supporto Del caffè SciCaf E degli amici di Telebari Che naturalmente SciCaf da sempre vicino Alle sorti del Bari Telebari da più di 20 anni Che conduce una trasmissione Esclusivamente Dedicata a Bari Una striscia quotidiana Io penso che Pochissime tv private Abbiano questa longevità Nelle trasmissioni dedicate Alla squadra del cuore Fermate un attimo Alberto Perché abbiamo un amico Da parecchio tempi in attesa E continuiamo con gli altri dettagli Pronto? Ciao Enzo Daniele Ciao Daniele Un saluto all'ottica Un saluto Sono stati bravissimi ieri I giocatori del Bari Però Devo dire Dovevo essere sincero Secondo me l'hanno fatto Non per i tifosi L'hanno fatto una bella partita L'hanno fatto per loro stessi Per il loro futuro E spero che comunque Continuano a giocare In Serie B Così Perché Secondo me È stata una vetrina Appunto Per farti vedere E hanno giocato veramente bene Grazie Ciao Enzo Grazie per il tuo intervento Beh Puoi pensarla così Però devo dirti che Insomma Io credo che Adesso ha fatto che Un po' di amor proprio In ognuno di noi Ci deve sempre Ci deve sempre essere Però io credo che il Bari Abbia giocato di squadra Non credo che Si sia trattato di uno show personale Ma di una partita bella Giocata Dalla squadra Che portava addosso La maglia bianco rossa Perché i colori sono colori Perché se cominciamo a credere Che ognuno giochi Poi questi ragazzi Mi sembrano puri Devo dirti la verità Questa è una squadra Formata da puri Cioè da ragazzi Anche abbastanza Fra virgolette Ingenui Per certi versi Ieri ad esempio Mi ha fatto piacere Vedere l'emozione Di Bellomo Con il suo primo gol Con la maglia bianco rossa Le giocate di Galano Che mi sembra davvero Un giocatore straordinario Devo dirti la verità Ieri ho visto giocare Un giocatore che non ho mai visto E sono rimasto a bocca aperta Perché questo Che ha un sacco di problemi fisici Entra in campo E comincia a saltare In velocità ogni avversario Ad accentrarsi A tirare in porta Quando mi hanno detto Lo chiamiamo il piccolo Robben Devo dirvi che Diciamo il paragone Mi sembra E poi Borghese ragazzi Che cosa volete Non penso che Borghese Giochi per amor proprio Per me questo è un ultras Sceso in campo A difendere i nostri colori Questa è la sensazione Che ho di Borghese Infatti quello che dicevi prima Ma secondo me Non si gioca una partita del genere Con gli individualismi Anche se 4-5 giocatori Decidono di fare una grandissima partita Se non c'è il gioco di squadra Se non c'è la coesione Se non c'è la voglia di giocare Veramente come squadra Non si arriva a certi risultati Non si fanno queste partite Come altre che ne abbiamo viste Purtroppo a volte paghiamo Un pochino anche di ingenuità Ieri è andato tutto bene E facciamo pochi gol Per le occasioni che creiamo Facciamo sicuramente pochi gol Per le occasioni che creiamo Ma questo è dovuto anche Un deficit probabilmente Del reparto avanzato Se avessimo avuto un punto strutturale Ieri invece tutti quanti Ci hanno messo l'anima Probabilmente anche per motivazioni personali Io non lo metto in dubbio Non è che i giocatori Sono oramai un tutt'uno con la maglia E ci mancherebbe altro Però secondo me ieri Hanno giocato dalla squadra E molte partite che abbiamo visto Hanno giocato dalla squadra C'è un amico in linea pronto Ciao Enzo sono Nicola Ciao Nicola Ciao Benvenuto al Parigino Ciao Nicola Enzo anch'io la penso così È la migliore partita del Bari Di quest'anno Casualmente quando c'era la televisione Perché tutti Alla televisione ormai c'è sempre ragazzi Il partito è su Sky Non è Sky Però ragazzi Io noto purtroppo Giocava solo con la partita Non ho purtroppo ragazzi Mi dispiace Io devo dirvelo Cioè noto questo Andare a cercare sempre nel torbido Come dire Ma che se Perché ci roviniamo il fegato E la milza anche Cioè Questi hanno giocato ieri da squadra Se avessero giocato individualmente Perché volevano farsi notare Avrebbero fatto una figura di M col Genova Perché il Genova sul piano individuale È cento volte più forte del Bari Il Bari ha giocato invece Da squadra Perché la squadra giocava corta In 30-40 metri Io ho visto Non vedo perché Dobbiate sempre cercare qualcosa che non va Sono ragazzi di 23-24 anni 22 anni E paradossalmente Più giochiamo con questi ragazzi E meglio è Il Bari peggiore È stato quello di Bogliasino quest'anno Quello di De Paola È stato quello di Bari peggiore Questa è la stessa squadra Che giocava in Coppa Italia quest'estate E stavamo molto distanti Dalla repertura del mercato La squadra giocava così Questa è la squadra del Bari Io non credo che si debba sempre pensare Ognuno gioca per se stesso Un minimo di amor proprio Nella vita c'è sempre Però questa è una squadra Che ha giocato da squadra Quindi veramente Tenderei ad escludere Perché altrimenti ragazzi Noi veramente Andiamo sempre a cercare Qualcosa che non va Io dico bravi ragazzi Perché ieri Me l'ho fatto sentire Ulteriormente orgoglioso Di essere tifoso del Bari Perché quella maglia L'hanno onorata Ha giocato una grandissima partita E costringendo i tifosi del Genoa A fischiare la propria squadra Che è una cosa che capita Tutti i giorni E stamattina si parlava della partita Stamattina tutti quelli Che hanno visto la partita Mi hanno fermato Mi fermano le persone Normalmente già a mezza la sala In genere mi fermano Ma Parigi Oggi invece tutti contenti erano Perché hanno visto veramente Una bella partita Quindi sicuramente Sono rimasti contenti Da quella che è stata la partita Perché più di uno me l'ha detto Nessuno oggi è stato un disfattista O ha detto O hanno giocato per loro La gente vede la partita Se gli piace la partita Se si diverte È contenta C'è poco da fare Anche a prescindere dal risultato Perché comunque abbiamo perso Però abbiamo rimontato due volte Due volte di vantaggio il Genoa E abbiamo soffiorato il 3-3 Che sarebbe stato clamoroso A tre minuti alla fine La gente si è divertita Io faccio un applauso Questa squadra purtroppo Si sta trovando in un momento Molto particolare Ma questa è una squadra Che andrebbe amata Dal mio punto di vista Con i suoi limiti Però è una squadra che andrebbe amata Perché raramente Ho visto una squadra Dare il 100% Delle proprie possibilità Come sta dando in questo momento Il Bari Fermiamoci Pausa pubblicitaria Se non è la squadra Comunque va amata sempre A prescindere dalla serie Da chi gioca Dovrebbe A maggior ragione questa Dico io C'è un amico in linea No Pubblicità Pubblicità Poi diamo insieme